La cassa integrazione gratuita in realtà all'azienda costa. Quanto? Svariate migliaia di euro l'anno tra TFR, ticket licenziamento, scatti di anzianità e quant'altro. A fare i conti è la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro che ha elencato le voci di spesa per la cassa integrazione a carico di quattro aziende tipo appartenenti a diversi settori merceologici ed è emerso appunto che la cassa Covid, la cosiddetta cassa Covid, in realtà non è mai gratuita. Ma entriamo nel dettaglio. Come sappiamo gli ultimi provvedimenti emergenziali hanno previsto la proroga del blocco licenziamenti fino al 31 gennaio 2021, ma come ben sappiamo appunto nelle intenzioni del governo questa proroga dovrà essere ulteriormente rinviata al 21 marzo 2021. L'intenzione da parte del governo è controbilanciare questa misura che chiaramente è anti-economica per le imprese che magari hanno intenzione di ristrutturare con la possibilità di accedere agli ammortizzatori sociali emergenziali, cioè la cosiddetta cassa Covid che appunto dovrebbe essere gratuita. Ma appunto sostiene la Fondazione Studi e Consulente del Lavoro, l'accesso alle ammortizzatori sociali in realtà si paga e come? O meglio, da un lato è vero che viene azzerato il contributo richiesto dalla normativa ordinaria per i periodi di cassa fruiti dall'azienda. Dall'altro lato però anche a motori fermi restano alcuni oneri che l'azienda deve continuare a pagare. Vediamo quali. Tra le voci di spesa anzitutto vi è il trattamento di fine rapporto che appunto il datore di lavoro deve continuare a pagare. La Fondazione Studi esemplifica anche questa voce di spesa, ad esempio nel settore metalmeccanico industria il costo medio mensile del TFR a carico dell'azienda per il singolo dipendente può variare da 120,64 euro mensili per un lavoratore inquadrato al terzo livello fino a 144,47 euro per il dipendente inquadrato invece al quinto livello superiore. Ancora c'è il costo per il ticket licenziamento e questo appunto nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo determinato che darebbe appunto diritto all'indenità di disoccupazione NASPI il datore di lavoro è tenuto comunque a versare una somma pari al 41% del massimale mensile di NASPI per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni, quindi un costo significativo. Ancora l'anzianità di servizio non si sospende anche appunto a motori spenti per l'azienda, pertanto tutti gli istituti ad essa collegati e previsti diversi contratti collettivi nazionali devono continuare a produrre i loro effetti, parliamo dei scatti di anzianità, del periodo di comporto, della diversa maturazione dei ratei di ferie e così via. Inoltre ancora i principali contratti collettivi prevedono altri istituti che possono incrementare ulteriormente gli oneri a carico del datore di lavoro in questo periodo emergenziale, tra questi i contributi ai fondi sanitari o agli enti bilaterali. Per finire poi vi sono i costi che appunto mensilmente sostengono le aziende soggetti al contributo per ammortizzatore sociali. Quindi a sommare tutti questi costi sostiene ancora la fondazione studi dei consulenti del lavoro si arriva a svariate migliaia di euro per appunto la fondazione studi ha preso in considerazione come detto quattro tipologie di aziende e si superano sempre i 10.000 euro di costi per appunto nel periodo di cassa integrazione anche appunto in questo periodo emergenziale. Ancora altra novità importante per il mercato del lavoro in questi ultimi giorni, la procedura di comunicazione al Ministero del Lavoro relativa all'attivazione dello smart working potrà avvenire in maniera semplificata fino al 31 gennaio 2021, quindi è stata prorogata rispetto al 31 dicembre 2020. Si tratta quindi di un addempimento semplificato per i datori di lavoro che è previsto dalla disciplina emergenziale. Collegato a questo provvedimento però c'è chiaramente l'avvio delle smart working per i dipendenti che resta emergenziale ma la cui scadenza è ancora quella del 31 dicembre 2020. Si è creato quindi un disallineamento come poi abbiamo approfondito anche nelle nostre pillole qualche tempo fa, un disallineamento tra lo smart working emergenziale che scade il 31 dicembre e la comunicazione semplificata che scade il 31 gennaio 2021. Questo disallineamento è in dirittura di essere sanato, diciamo così, attraverso la conversione in legge del decreto di proroga delle misure emergenziale che è in via di approvazione in Parlamento. Smart working che per appunto le fonti Liga, per le fonti TV resta un tema importantissimo tanto che abbiamo lanciato un nuovo sondaggio per comprendere appunto come studi legali ma anche realtà aziendali, istituti finanziari, banche e così via hanno avviato le procedure di smart working sempre tenendo presente che lo smart working emergenziale che non prevede come sappiamo un accordo tra il datore di lavoro e il dipendente non venga attuato diciamo così dalle imprese che sono chiamate invece ad attuare dei piani più strutturati guardando al futuro. Lo vedremo nel nostro sondaggio che verrà pubblicato sul prossimo numero di Le Fonti Legal e vi lascio come sempre appunto comunicandovi dove è possibile trovare Le Fonti Legal nella tradizionale edizione cartacea che appunto è disponibile nelle principali edicole oppure scrivendo ad abbonamenti chiocciolalefonti.it in questo caso ve lo spediamo noi oppure in edizione digitale e basta iscriversi alla nostra newsletter che è presente sul sito lefonti.legal. Bene, io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata di Legal Corner.